Buonasera, siamo a poco più di 40 minuti dal derby e questa sera è una puntata incentrata sulla salute. Abbiamo due rappresentanti, due persone che sprizzano salute da tutti i pori. Questa sera giochiamo con? Marilena. Alessandro. Vabbè, ovviamente stiamo scherzando ma noi sapete che siamo tutti con voi. I vostri problemi sono i nostri problemi per cui siamo contenti di poter giocare perché tanto serve anche a quello. Giochiamo per dovere di ospedale tale con lei. Giochi per i biglietti, la maglietta o la felpa? Biglietti. Brava, per i biglietti. Allora, la prima è facile, non puoi non rispondere. Che cos'è l'effetto Serra? Oh strega, te lo devo dire in poche parole. Il fetto Serra non te lo so dire con le mie parole. Il fetto Serra è quello che sta capitando al pianeta adesso. Sì, è un problema al pianeta. È quello che diceva. Brava, sì, no, è più o meno quella a fare lì. Lidia. Non posso dire qualcosa di diverso ma... Vabbè, ascolta, proviamo con la seconda. Allora, questa la sai perché chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica dal 64 al 71? Spara la Delayde. Pertini. Pertini, no, 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 no. Vabbè, allora, loro due, la Delayde e la Lidia vendono biglietti perché sono contenti che non ti regalano i biglietti. Però va bene, dai, ti abbiamo fatto sorridere. Grazie lo stesso. Ale, tocca a te. Giochi per? Per la maglia. Giochi per la maglia. Allora, è facilissimo. Come si chiama? Come si chiama la cellula che deriva dalla fusione di uno spermatozoo con una cellula uovo? Facile, facile. È bello, lo sai? Non ne ho la più pari di idea. Allora, poi rispondi tu, dai. Hai vinto la maglietta l'altra volta. Come si chiama una cellula che è l'unione dello spermatozoo e dell'ovulo? Gamete. Cos'era? Ma no, non ti diamo la maglietta, dai, dopo questa. Hai una seconda chance, Ale? Va bene. Allora, quando sono con i miei fratelli e sorelle sono rosso, quando mi dà uno scatto divento giallo, quando mi soffi divento nero. Cosa sono? Una sigaretta? Era un fiammifero, peccato. Va bene, ragazzi, non regaliamo maglie, non regaliamo biglietti, regaliamo simpatia in bocca al lupo per voi. Grazie, Lucio. A voi, per Sanda Vole e Sport News, a più tardi. A voi, per Sanda Vole e Sport News, a più tardi.